Sì, sono Morgan. Qualcuno riconosce questi volti? Le vittime del killer del sentiero? I giornali lo chiamano così, ma come nostra abitudine parleremo di lui come del soggetto ignoto, l'SI. Ho detto alla polizia della Virginia di cercare un maschio bianco sui vent'anni, con un furgone di fabbricazione americana in cattivo stato. Ha un lavoro modesto. Ho detto anche di non stupirsi quando l'avranno trovato, se scopriranno che è balbuzziente. Chiedo scusa, ma perché dovrebbe balbettare? Dove ha commesso gli omicidi? Su sentieri isolati. Se è un killer che ha bisogno di usare tanta inutile brutalità anche in luoghi così isolati, allora difetta di charisma. Non ha il fascino per farle salire in macchina come Ted Bundy, non ci riesce perché evidentemente prova vergogna per qualche motivo. Scusatemi. Lo chiamano lo strangolatore di Seattle.